Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in FIPILI e in tutta la rete autostradale toscana, in A1 per lavori in direzione Bologna a corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Nello stesso tratto per lavori prevista stanotte la chiusura è in orario 22.6 in direzione Mare e 22.1 in direzione Firenze. Per quanto riguarda il traffico cittadino, oggi alle 18 allo Stadio Franchi è in programma la partita di calcio Fiorentina-Napoli. Su disposizione della questura scatteranno i provvedimenti di circolazione nella zona di Campo di Marte. I consueti divieti così scatteranno otto ore prima del fischio d'inizio. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!